No, è molto interessante l'esperimento che hai fatto lasciando andare il telefono su TikTok per conto suo e farti un po' guidare da lui, vedere dove andava a finire per conto suo. Cos'è successo? Ah, sono finita un po'... Cioè tu hai preso il telefono, l'hai messo lì in carica... L'ho messo in carica, ho praticamente impostato l'autoplay e l'ho fatto andare per 10, 11, 12 ore tutti i giorni per vedere dove finivo, che cosa c'è nei meandri della piattaforma, dove possiamo arrivare. E ho trovato un po' tutti questi punti un po' oscuri di TikTok, che vanno dalle dirette, dalle sale operatorie in Brasile in cui vedi l'organo messo davanti alla telecamera, a tutta una serie di fenomeni che sono abbastanza pervasivi e anche preoccupanti, che riguardano l'esposizione delle malattie, in particolare i disturbi del comportamento alimentare. Possiamo letteralmente parlare di reality show dell'anoressia ormai, perché ci sono veramente tantissime ragazzine che ci mostrano tutta la loro routine all'interno dell'ospedale, che però viene processata per aderire ai trend della piattaforma. Quindi io sto male, ho un ricovero, ma ci metto sotto la canzone di tendenza e faccio un ballettino dal letto del mio ospedale. Oppure quello che a me infastidisce di più è quello della prova del buon povero. Quindi il creator, che va vicino a un senza fissa dimora, gli fa delle prove per confermare la benevolenza del senza fissa dimora. Real questa cosa? Sì, sì. Cioè è vero? Non è ok? No, no, sono assolutamente veri. Ad esempio qualcuno sta chiedendo le lemosina, lui si avvicina, gli chiede magari un dollaro per prendere l'autobus, il senza fissa dimora, gli dona il dollaro e lui dice visto che sei stato gentile, allora ecco per te 10.000 dollari e gli apre le banconote davanti alla faccia. Madonna che schifo. Già. Mamma mia. Ma qualcuno stava, in molti hanno citato The Social Dilemma, che è un documentario che c'è su Netflix, molto molto interessante, è uscito nel 2020 mi pare, di quel documentario mi aveva molto colpito il finale dopo i titoli di coda, il documentario spiega un po' appunto come funzionano i social, come funziona proprio il telefono, cioè il grande insegnamento che mi ero portato a casa è disattiva tutte le notifiche, cioè con un telefono disattiva tutte le notifiche altrimenti diventa lui a guidare la tua vita e non il contrario, cioè è lui che chiama te perché quando un telefono si sente trascurato ti manda delle notifiche perché tu ritorni sul telefono a guardare e una volta che torni sul telefono già che ci sei ne apri una, ne apri due, ne apri tre eccetera eccetera ma dopo i titoli di coda c'era la voce dell'intervistatore che parlava con gli ex capi di Google, gli ex capi di vari social network eccetera eccetera dicendo dove porterà questa cosa e molti di loro rispondevano alla guerra civile, che è una cosa che lì per lì mi ha fatto dire che esagerati, però sempre tornando un po' alla polarizzazione che dicevamo prima, cioè poi insomma uno degli scenari potrebbe davvero essere... Sì perché il problema secondo me è il fatto che noi riusciamo a indirizzare le informazioni a seconda del target, quindi anche tutto quello che riguarda l'immaginario politico viene in un certo senso mediato a seconda delle persone che io voglio colpire. Ti faccio un esempio, nelle elezioni statunitensi che hanno visto vincere Trump, adesso non mi ricordo, erano quelle del 2016, è uscito che c'era stata tutta una mediazione all'interno di Facebook che aveva fatto sì che soprattutto tutto quello che è il mondo complottista venisse colpito da determinati contenuti, ad esempio Hillary Clinton che mangiava i bambini ti ricordo che c'era stato tutto questo fenomeno e quindi diventa veramente urgente andare a comprendere come gestire questo flusso di informazioni anche perché il problema più grande in realtà è che chi detiene il potere economico detiene il controllo delle informazioni, quindi io posso creare dei contenuti sponsorizzati che vanno a colpire nel dettaglio le persone. Ti faccio un esempio senza entrare nei dettagli, parliamo di conflitti politici, se io voglio fare in modo che una fazione venga percepita come più buona dell'altra e ho il potere monetario per farlo posso costruire tantissimi account anche finti con delle storie finte, con delle persone finte che mi vanno a dire metti in piedi una narrazione che va a colpire, diversificare a seconda del target. Io ne ho visti tantissimi nei recenti conflitti come quello israelo-palestinese, ho visto proprio la diversificazione dei contenuti che andavano a colpire, il target mamma, il target bambino, i contenuti pubblicitari prima del cartone su YouTube, andavano a colpire attivisti di varie tematiche, ognuno aveva il suo storytelling che gli portava un certo tipo di informazione, quindi è ovvio che la guerra civile io non la vedo veramente così distante come ipotesi, perché se tu ci pensi tutto quello che facciamo ormai è mediato dal telefono che teniamo in mano, quindi nel momento in cui io voglio andare a polarizzare, come dicevamo, un certo gruppo di persone, lo posso fare, se ho il potere economico lo posso fare. Esiste l'attivismo buono sui social? Secondo me no, perché alla fine dobbiamo renderci conto che i social non sono delle piattaforme di intrattenimento, non sono delle piattaforme per creare connessioni, ma sono delle piattaforme commerciali, quindi tutto ciò che è attivismo, nel momento in cui, come dicevamo prima, il contenuto viene molto verticalizzato e molto declinato sulla persona, diventa un principio identitario che viene estetizzato e nel momento in cui viene estetizzato viene commercializzato, tant'è che ci ritroviamo a un certo punto con gli ombretti femministi. che cazzo sono gli ombretti femministi? Cioè nel senso, la differenza c'è tra l'altro ombretto.